Alias, hai sentito cosa ha detto Stephanie al Games Week? Lui è prontissimo, eh, per la sfida. Sì, è ovvio, anch'io sono prontissimo. Mi sono allenato, quindi devo avere una paura santa. Comunque anche tu arrivi, Giova, con questa skin da pro player che è falsa. Ma non è falsa! Eh, guarda cosa faccio io. Cosa fai? Pure tu alla Renegade. E l'ho fatto lo stesso. Oh! All'Renegade pure lui, raga! Ma voi mi avete fatto sfidare questo per andare contro Stephanie? Veramente? Raga! Oh! Ragazzi, vai al letto, vai al letto, per favore. Ragazzi! Andiamo a dormire, tipo... Diego, Diego, lì prendi un cuscino, per favore. Ragazzi, come ben sapete, Alias Play ha dissato Stephanie nel video contro Kaikots. E Stephanie ha risposto pubblicamente sotto al video dicendo che quando sarebbe tornato dal Giappone lo avrebbe sfidato. Ok, è tornato e durante il Games Week, raga, un fan, guardate, cosa gli ha chiesto. Allora, questa sfida c'è o non c'è? L'accettiamo, ci beccheremo in questi giorni per farla. E quindi la sfida si farà pubblicamente. Ok, ora torniamo a noi. C'è Alias Play che mi ha detto che si sta allenando tantissimo per sfidare Stephanie, per poterlo battere. Nel frattempo, questo ragazzo mi ha contattato dicendomi che ha una Renegade Rider fortissima da far sfidare ad Alias Play, una Renegade Rider vera. Quindi questo sarà il test, sarà una prova per vedere se effettivamente Alias Play si è allenato oppure rimane il nabbo di sempre. Detto ciò, non rimane che parlare con il manager, però vi ricordo, se volete acquistare e risparmiare tanti soldi, raga, sulle Playstation Card, V-Bucks, Skin, Xbox Live Card, giochi. Quindi, raga, vi lascio Instant Gaming, costano veramente molto di meno a confronto del PSN o dei siti ufficiali. Ed è affidabilissimo che io sto comprando sia V-Bucks che FIVA Points, raga, e sto risparmiando tantissimo. E in più se utilizzate il mio codice supporto al creatore, mi raccomando, fatemelo sapere su Instagram, inviandomi uno skin perché, raga, ogni mese metterò in palio skin rarissime tipo questa, oppure la Wonder, ovvero skin non comprabili nel negozio ma solo tramite bundle. Uuuuh, ma è vera questa Renegade? È vera, vera? Certo che sì. Allora, tu adesso sfiderai Alias Play, non so se lo conosci. Sì, 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 ho bussuto il video. Ok, quindi sai già che è un po' pazzo, non rimanerci male le cose che dirà. Sì, sì, raro. Ok, allora, mi ha detto il tuo manager che probabilmente sei probabilmente più forte di Ditko e Kygox. Secondo te? Ma... Ehm, secondo me sì. Sì? Ehm, raga, 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 dice di essere più... Allora, invidiamo Alias. Allora, invito Alias, io nel frattempo siete pronti? Dovrebbe essere il lobby. Alias, benvenuto tra di noi. Dimmi, dimmi, dimmi. Ma hai visto chi c'è il lobby? Chi c'è? Una Renegade Rider. Non sei emozionato? Ma sarà falsa. Emozionato che cosa? Sarà falsa. Iniziamo malissimo, raga. Non so dove l'ha presa, dai. È falsa? Bro, è falsa come dice Alias o è vera? No, verissima. Ok, poi lo vedremo in game. Alias, guarda che sta facendo, Alias, Alias, guarda che sta facendo, il loser. Ma sì, ma è uno scarso, è uno scarso. Poi quando lo batto voglio vedere cosa fa. Ok, va bene. Che balletto hai quando ti batto? Che balletto hai quando ti batto, eh? Bella. Dico io. 3, 2, 1, let's go. Raga, osserviamo Alias che si è allenato. Vediamo se si è allenato veramente. Oh, sembra più veloce a fare i 90. Oh, l'ha preso le ground o no? Quindi? L'ha preso le ground o no? Quindi? Raga, niente, sta sotto. Però si è allenato, eh. Si è allenato duramente, credito. L'ho visto. Ok, sì. Non si copre dietro. Solo tu? Oddio. Aia, aia. Alias ti vedo in difficoltà però sotto. Ah, no, è lui che è in difficoltà. Ah, sì? Hai preso le ground? Oh, ha preso la ground. Manager, cosa dice? Il suo player sta sotto. Ma. Dai, dai, dov'è? Ma non dove essere più forte di Kai, Gozzedizko? Guarda che non posso muovere neanche, guardate. Ragazzi, ti state aspettando, eh. Si, ti sto aspettando. E me sa che ti sta addossando qualcuno, adesso. Guarda come spam i 90, guarda come prendi di high ground. Ok, oh. Chi è che l'ha detto? Non conosco le voci. Chi è che l'ha detto? Ho detto io. Manager. Manager, manager, manager. Manager, dai, vieni qua. Lei deve stare in silenzio. Oh, ma Alias. Ragazzi, veramente, raga. Più forti di Dizko e Kai, Gozzedizko, abbiamo trovato un altro pro convinto. Con la Renegade Rider. Cioè, raga, non pensavo. Un altro pro convinto con la Renegade. Alias, però, lo vedo un po' di più. Cosa sta facendo? Alias. Alias. Allora, ragazzi, dico la verità. Dico, oh. Dico la verità. Alias, ascoltami. Questa volta sto a favore tuo. Stranamente. Bro, l'hai devastato. L'hai devastato. Il problema è che c'è avuto una mira un po' di cacca. Però l'avevi devastato. Un colpo e moriva. Ma ha avuto un po' la mira così perché, te lo spiego io, perché, non lo so, lui non mi sembra che abbia le aimbot, però c'era qualcosa che non andava. Ma che fa? Perché? Ah, ti osservo a te. Ok. Ti osservo a te. Però, Giova, ti dico la verità. Più forti di Dizko e Kai, Gozz. Giova, Giova, fidati perché io, guarda, io ho sfidato Dizko e Kai, Gozz e non sanno veramente giocare perché hanno le aimbot. Ma come non sanno giocare, hanno le aimbot? Ma una volta che ero a favore di... Giova, fagli vedere. Vai, Giova. Vai, vai, Giova. Sì, va bene. Giova, vai. Vediamo come gioca questo. No, raga, veramente, non mi pareva bravissimo. Ok, spamma i 90. È bravo. No, è bravo, è bravo. No, non troppo. Cioè, si è impicciato, raga. Io penso di batterlo. Cioè, io, Alias, l'ho battuto soltanto con la Desert Eagle. Lui tutte le armi. Lui 200 di vita. Io 40. Raga, nonostante ciò, l'ho picconato. Quindi, secondo me, Giova, lo batto facilmente. Lo batto facilmente, Giova. Vediamo, Alias. No, vabbè, sta giocando bene per ora. No, però adesso stai giocando bene, mi rimangio le parole. Però sono ancora convinto che posso batterti senza problemi. Vediamo. Ok, ok. Sì, ma giocando bene cosa? Per qualche edit che ha fatto? Eh, no, eh. Guarda che non mi fa muovere. Ma come non lo fa muovere? Raga, allora. No, no. Non lo, no. Raga, più forte il disco. Kykos, Kykos e Dirkos se lo mangiano. Ma a picconate se lo mangiano. Sì, vai, scappi. Però, raga, io adesso l'ho preso a picconate, vi giuro. Guarda, guarda cosa fa. Scappa, scappa, scappa. Sono più forte. Demo Alias che fa? Ma chi spara Alias? Ma Alias! Alias, ma a chi sparavi, scusa? Mi sei bloccato il mouse, ragazzi. Dai, parti, parti. Ma non è vero. Ma perché ha le scale al controllo? Ma perché ha la cupola? Quelle sono scale. Va bene, va bene. Oh, raga, ma quale velocità? Secondo me... Non sei proprio giocato, c'ho fattelo dire. Social, da dove scappa questo termine? Lala. Però, picca. Non picchi, eh. Edita, fai qualcosa, Alias. Alias, pensa più a giocare che a parlare, va. Sì, infatti, perché potevi battere nel primo round. Sei sconcentrato. Io ti vedo troppo giù. Che significa? Sta sopra te. Ma sopra me dove? Attenzione, Alias che si è allenato morirà tra tre, due, uno. Dove le piccolare? Ma cosa sta facendo? Ma perché? No, raga, no, veramente, Alias. Quindi? E quindi? Non è che quindi? Stepney ti distrugge. Quindi che pergi due volte piccolato. Stepney ti distrugge, bro. Raga, quanto siamo? Tre a uno? Quattro a uno? Quanto è? Ma sì, non serve. Dai, dai. Come non serve? Ah, subito, così carico. Però... Guarda, guarda che scarso, guarda che scarso. Non giochi dalla season 1? Non giochi dalla season 1? Che schifo. Neanche l'high ground sai prendere, per favore. No, raga, non ha senso. Neanche l'high ground. Attenzione. Ma non era falsa, Alias. Ma non hai detto che era falsa. Oh! Guarda che scarso. Ma non avevi detto che era falsa. E intanto ti ha picconato due volte. Alias. Che bel. Alias, ascolta. Alias, ascolta. Leva il sangue al cervello. Allora. Perché non mi fanno i tassi. Dai, va bene, va bene. Senti, Alias, ascoltami. Ma non avevi detto che era falsa la skin? E muove l'ha insultato dicendo che era vera, ma... No, nel senso... Non giochi dalla season 1, perché potrei capire che magari, essendo vera, potrebbe... Comunque, avete capito. Che significa? Non ho capito niente. Dai, guarda come gli entrano neanche le hit. Ma gli hai sparato di lato! Ragazzi, abbiamo ristartato perché Alias aveva problemi di connessione. Alias, hai risolti i problemi di connessione? Certo che li erano risolti. Basta che tu non mi dossi, io li risolvo. Ma non è vero! Ma non... 3, 2, 1, let's go! Raga, io ho notato una cosa. Che Alias è migliorato nel buildare, ma è peggiorato in tutto il resto. Non capisce... Guardate, non capisce mai dove l'avversario... Non spara e non edita, quindi probabilmente si è allenato soltanto... È caduto pure... Secondo me si è allenato soltanto nel... Dai, dai, dove sei? Nel buildare. Dove sei? Soprattutto a te. Oh! Che hit! Ragazzi, che hit ha preso? Che hit ha preso? Eh, Giovanni, qua la rischi, eh. Hai poca vita, Alias potrebbe batterti. Ma voi mi avete fatto sfidare questo per andare contro Stephanie? Veramente? Ma ti ha battuto fino adesso, ti ha battuto. Ma Diego, ma mi puoi mettere mai contro uno di questi, di questo livello? Ma non è a livello, Alias. Ma ovvio che non è a livello. Ma ovvio! Vediamo... Dopo che vieni qui, vieni giù, vieni giù, dai, è l'uomo. Non è a livello. Ma perché continui a cadere, Alias? Oh! Ha preso 100! Ragazzi, vai al letto. Vai al letto, per favore. Ragazzi! Andare a dormire. Diego, Diego, lì prendi un cuscino, per favore. Dai, prendi un cuscino. Alias, rigenerati, Alias, rigenerati, voglio, voglio osservare te. Alias, uccidi, uccidi, no, no. Cossa. Vabbè, no, è uccidi Giova di nuovo, uccidi Giova di nuovo. Alias, sai cosa stavo dicendo agli iscritti durante il video? Che tu sei migliorato nel buildare, ma sei peggiorato in tutto il resto. Cioè, veramente ti metti in difficoltà. Farmi arrabbiare, Diego, farmi arrabbiare. Non è tempo, dai, non è tempo, farmi arrabbiare. Ma non è tempo, dai. Vuoi vedere Diego mentre l'ammazzo? Vai, vai, vai. Volete vedere? Non parlate. Vai, ok, non parlo. Ragazzi, non parlo, non lo distraggo. Non lo distraggo, era concentrato prima perché non mi ha risposto sul fatto che... Ho detto che era peggiorato nel buildare. Vediamo, raga. Voglio vedere senza distrarlo se effettivamente è una distrazione facile. Intanto sta sopra. Raga, intanto sta sopra Alias. Giova lo vedo un po' in difficoltà. Giova ti vede un po' in difficoltà, eh. È strano, di solito questa frase la dico ad Alias, però ha preso la ground. Oh, ma ha passato la struttura! Che sta facendo Alias? Perché non ha sparato? Cosa? Sta cercando di... Alias! Guarda, solo perché lo volevo picconare su... Alias, l'ho visto, l'ho visto. E invece di mettere il piccone ho messo il pavimento, dai, per favore. Adesso si parte, lo dico io. Ma come? Ma Alias ha già sparato! Parti, parti, parti. Alias, ma che regole sono? Questo qua, questo qua, dice di giocare alla season 1, vabbè. Ma perché gioca... Perché gioca dalla season 1? Da cosa l'hai capito? Guarda, guarda come si trocca, guarda. Da cosa l'hai capito che è gioca dalla season 1? E Alias? Bravo, bravo, perché c'ha la Renegade Rider. Comunque adesso lo segnalo alla Epic perché ha la skin falsa. Ma no! E poi concludiamo anche questo bellissimo video. Ma no! Ma non avevi detto... Ma sì, invece. Ragazzi, ha detto che gioca dalla season 1 perché ha la Renegade Rider e poi lo dici che è falsa. Così vediamo. Quindi, quindi, non ho capito cosa farai adesso. Non hai capito, ho capito io, ho capito. Cosa farai? Cosa? Lo segnalo alla Epic. Ma perché? Prendo il segnalo al personaggio. Prendo, gli scrivo una bella mail e vediamo. E vediamo. Ma te hanno mai risposto Alias, la Epic? Non ti preoccupare che mi ha risposto. Ah sì? Non ti preoccupare che mi ha risposto. Ah sì? Non ti preoccupare che mi ha risposto. Ok. Sto certo.